Con la firma del patto per il biologico avvenuta tra il vicepresidente e assessore all'agricoltura Mirko Carloni e i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria, si punta per la prima volta alla realizzazione di un distretto biologico unico delle Marche. Un strumento chiave per incentivare l'economia locale, un alleato essenziale per l'equilibrio del processo alimentare e di conseguenza per la salute. Le adesioni sono state aperte e quindi gli operatori del settore possono manifestare il proprio interesse a partecipare attraverso la piattaforma SIAR. A disposizione ci sono 100 mila euro per la costituzione e l'avvio del distretto. Poi bandi mirati del programma di sviluppo rurale con 25 milioni di euro per il 2021 destinati alle aziende che producono biologico, più altre 18 milioni riservati alle filiere di qualità e ai prodotti locali. Le Marche devono diventare dal mio punto di vista il distretto del biologico più grande d'Europa. Questo perché? Perché intanto possiamo andare a vendere non solo i nostri prodotti con un brand marchigiano, locale, che ci identifica rispetto a tutto il biologico, che invece come sapete non può essere distinto dal punto di vista di indicazione geografica, inoltre ci permette di fare delle campagne di comunicazione all'esterno e anche a livello internazionale sulla nostra specificità di una cultura a grande compatibilità con la salute, con la qualità, a grande sostenibilità e a biodiversità. Questo diventerà l'elemento di forza con cui noi andremo a Dubai nel 2022 a presentare nella settimana dell'agricoltura la nostra regione, a raccontare un territorio dove si vive bene, dove c'è cultura della qualità e dove c'è sostenibilità. Ma questo significa anche fare promozione per una regione che dal punto di vista turistico riesce ad attrarre tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza di qualità, ma all'aperto, nelle aree verdi, nelle aree interne, nei nostri magnifici borghi con una grande propensione ad una enogastronomia di qualità. Le Marche infatti sono una delle regioni dell'Italia biologica con oltre 4.000 operatori e circa 104.000 ettari bio, cioè il 22% rispetto alla superficie agricola utilizzata al di sopra della media italiana e di quella europea. Il primo scopo è quello di creare valore ai nostri prodotti biologici e fare in modo che chi fa cultura biologica e magari ha delle dispersioni, ha dei costi superiori, fa sicuramente dei sacrifici ulteriori, possa trarne vantaggio perché il prezzo vale di più. La percezione di quel prodotto deve essere più alta. L'altro vantaggio è indiretto perché comunicheremo una regione, la regione Marche, che è una regione sostenibile, dove si vive bene, dove si può venire a fare delle vacanze di qualità all'aperto.